Foracci bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche quando è chiuso per ferie. Questo video ricchissimo ha una duplice funzione, da una parte dobbiamo recuperare tantissime notizie uscite fuori in questo periodo di stop del TG Poro, dall'altra mi serve per ricordarvi che domani alle 19.30 seguiremo in live qua sul canale YouTube la Opening Night Live della Gamescom, l'ennesimo appuntamento presentato da Jeff Keighley che potrebbe riservare ben più di una sorpresa, ma ne parleremo per bene più avanti. Prima di iniziare come al solito un semplice invito tripartito, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi gli sordi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Dopo tutte queste settimane di assenza anche l'angolo della poracciata è bello gonfio. Da una parte c'è il solito Epic Game Store che, cascasse il mondo, continua a regalare giochi gratis ogni settimana. Avete tempo fino al 22 per aggiungere alla vostra libreria digitale piena di titoli mai avviati World of Warships Starter Pack Albany e Death's Gambit Afterlife. Dopodiché sarà il turno di Gigantic Rampage Edition e del controverso quanto spernacchiato De Callisto Protocol. Ora invece dovete sganciare qualche decina di euro, ma vi assicuro che ne vale la pena. No, non mi riferisco al Porion, ma all'Humble Bundle targato Capcom. Per poco meno di 28 euro potete portarvi a casa un bundle ricchissimo che comprende roba potente come Ghost Trick, la Fighting Collection, il Beat'em'Up Bundle, 5 titoli della serie di Ace Attorney divisi in due collection e tutti Dead Rising dal secondo al quarto capitolo. E non solo. Il tutto poi giocabile comodamente su Steam Deck. Un vero affare. A proposito di affari, vi ricordo che attivo il giveaway di agosto su Instant Gaming. Partecipare è gratuito, basta avere un account Instant Gaming e il fortunato vincitore potrà portarsi a casa un gioco a sua scelta dal catalogo del sito. E visto che ci siete, date anche un'occhiata agli sconti in tendenza. Ci sono ottimi prezzi sui titoli più chiacchierati del momento, come Black Myth Wukong e il DLC di Elden Ring. E visto che lo abbiamo citato, domani esce Black Myth Wukong e lo scorso venerdì sono state pubblicate le recensioni di uno dei giochi più attesi dell'anno. Dalla reveal avvenuto nel 2020 ad oggi, critica e pubblico hanno puntato gli occhi su questo action ad opera del team cinese Game Science. E il verdetto della stampa specializzata sembra premiare il gioco, ma con qualche riserva. Wukong, sebbene sia erroneamente associata al mondo dei soulslike, è un action convincente nel gameplay. Esteticamente impressionante, ma che presenta qualche sbavatura in termini di design, ma soprattutto un bel po' di problemi a livello tecnico. La media metacritica si attesta intorno all'82, ma ancora non è ben chiaro come girerà il gioco su PlayStation 5, visto che a quanto pare per le recensioni sono stati distribuiti solo codici per la versione PC. Insomma, state attenti e tenete gli occhi aperti se stavate considerando un acquisto su console. Ma torniamo di prepotenzia sull'angolo della poracciata, perché abbiamo grandi novità da parte di Nintendo. Innanzitutto, gli abbonati al Nintendo Switch Online hanno la possibilità di provare gratuitamente, fino al 25 agosto, ben quattro titoli. Tetris Effect Connected, Power Wash Simulator, Enter the Gungeon e Cassite Beasts. Ma ancora più interessante è l'annuncio riguardante Emyo. Domani sarà infatti pubblicata una demo del titolo, che darà la possibilità ai giocatori di provare il prologo e il capitolo 1 di questa intrigante Vision Novel. Ma la cosa particolare è che il 23 la demo sbloccherà il secondo capitolo e il 28 sarà possibile giocare anche al terzo. Il 29, poi, il giorno di uscita di Emyo, si potranno portare i propri salvataggi sulla versione completa. Niente male, vero? Comunque, qualcuno lo deve dire. Siamo di fronte al primo caso di Demio, no? Demo molto più classica invece per Bakkeru, o Bakkeru, l'erede spirituale di Gaemon, che finalmente arriverà in Occidente il prossimo 3 settembre. Il titolo è uscito lo scorso anno, ma è rimasto confinato in Giappone e il suo arrivo non è affatto da sottovalutare. Infatti gli sviluppatori sono quelli di Good Feel, lo studio che in passato ha messo la firma su Yoshi's Holy World e Crafted World. Provatelo e poi ditemi cosa ne pensate. Mese imperdibile anche per il PlayStation Plus. Domani ci sarà la consueta infornata mensile dei giochi per i tier extra e premium. Ora, va benissimo esultare per The Witcher 3, Wild Hearts, Cult of the Lamb e compagnia bella. Ma io mi sento male nello scoprire che la trilogia dei Timesplitters sarà giunta al catalogo. Cioè stiamo parlando di una delle migliori serie di FPS di sempre, riproposta nella sua interezza, dopo anni di dimenticatoio e dopo che il progetto del reboot remake si è concretizzato in un nulla di fatto per colpa dell'incompetenza di top manager di Embracer Group. Comunque recuperateli se volete farvi un'idea di cosa significasse giocare multiplayer locale in split screen nei primi anni 2000. Lo ripeto sempre ma Timesplitters 2 rimane uno dei miei giochi del cuore. Abbiamo un'altra notiziona, abbiamo infatti la data di uscita di The Plucky Squire prevista per il prossimo 17 settembre. Manca poco. Il titolo sarà disponibile in digitale ma è stato promesso che prima o poi ne verrà prodotta una versione fisica. Cade a fagiolo quindi l'annuncio che il titolo sarà inserito al Day One all'interno del PlayStation Plus Extra, un bel modo per evitare il doppio acquisto prima digitale poi fisico. Visto che ci sono vi parlo di una storia molto simile, quella di Balatro, la mia personalissima droga del 2024. Mentre non sappiamo ancora nulla delle edizioni fisica che arriverà quando arriverà, cheat, il gioco ha raggiunto un grande traguardo, i 2 milioni di copie vendute. Per festeggiare, lo sviluppatore LocalThunk ha svelato che quest'estate ci saranno due sorprese riguardanti il gioco e che nel 2025 arriverà la prima major update che aggiungerà parecchi contenuti e sarà completamente gratuita. Il consiglio che posso darvi è quello di stare alla larga da Balatro se siete proni a qualsiasi tipo di dipendenza, non per forza quella del gioco d'azzardo. Per me ormai è troppo tardi ma voi forse siete ancora in tempo per salvarvi. Tempo e pazienza sono i due elementi fondamentali attorno a cui ruotano le prossime notizie. Ci sono voluti 14 anni ma quanto pare Rockstar si è finalmente decisa a pubblicare il primo Red Dead Redemption anche su PC. Non che ci sia stato un annuncio ufficiale ma per un breve lasso di tempo la descrizione della Remastered presente sul PlayStation Network si riferiva erroneamente alla versione PC dove venivano indicati miglioramenti specifici a risoluzione e framerate, la possibilità di utilizzare più monitor e supporto a sistemi audio 3D. Insomma tutte le migliorie che ci si aspetta quando un titolo viene proposto su computer. Ora manca solo l'annuncio ufficiale. Anche Remedy si sta prendendo tutto il tempo necessario per portare avanti in parallelo tre progetti, due dei quali sono massicci. Lo studio dietro a Dallan Wake 2 ha confermato che lo sviluppo di Control 2 e The Remake dei due Max Payne procede a gonfie vele. Il ritorno di Jesse Faden è ora giocabile ed è entrato nella fase di Production Readiness, l'inizio della lavorazione effettiva, mentre i due capitoli di Max Payne sono nel piano della produzione e presto saranno giocabili dall'inizio alla fine. In mezzo c'è pure lo sparatutto Multiplayer Condor e non dimentichiamoci la seconda parte del DLC di Alan Wake 2 prevista entro la fine dell'anno. C'è da nerdare durissimo con Remedy, speriamo solo siano in grado di gestire così tanti progetti contemporaneamente. In un periodo storico tristemente segnato da licenziamenti su licenziamenti e da studi che chiudono i battenti abbiamo finalmente un lieto fine. Con un grandissimo colpo di scena, Tango Gameworks è salva. Qualche mese fa Microsoft aveva annunciato dal nulla la chiusura dello studio dietro a The Evil Within 1 e 2, team che molti di voi però ricorderanno soprattutto per essere gli autori di Hi-Fi Rush, una mossa inaspettata e incomprensibile che aveva giustamente suscitato tanta perplessità da parte dei fan dello studio fondato da Mikami e in generale da tutti gli appassionati del mondo del gaming. Fortunatamente è entrato in scena il publisher coreano Crafton, che nel tentativo di espandere la sua influenza all'interno del mercato giapponese ha acquistato da Zenimax non solo lo studio ma anche la proprietà intellettuale di Hi-Fi Rush. Quindi non solo Tango Gameworks continuerà ad operare, ma i suoi creativi, molti dei quali sono stati richiamati negli uffici dopo il licenziamento, potranno portare avanti la saga di Hi-Fi Rush con un secondo capitolo. E chiudiamo questa prima parte con un potenziale lieto fine. Il remake di Silent Hill 2 è una di quelle operazioni che davo per spacciate ancora prima di uscire. Ripongo pochissima fiducia in Bloober Team, ancora meno in Konami e i primi trailer di presentazione di questa reimmaginazione di un mostro sacro non è che facessero proprio ben sperare. Però bisogna essere obiettivi, lo story trailer pubblicato proprio oggi è tutta un'altra cosa. Anche i videogameplay che stanno circolando in queste ore dimostrano come il più grande problema di questo remake sia stata in realtà una campagna marketing non in grado di valorizzare il prodotto finale. L'8 ottobre è ormai dietro l'angolo, voi andrete di day one? Ok, passiamo alle notizie del giorno. Abbiamo infatti un Nintendo Direct di agosto previsto per domani, più o meno. Infatti domani mattina, alle ore 9 italiane, Nintendo pubblicherà una presentazione incentrata sul museo dedicato alla storia della grande N. Il filmato durerà circa 10 minuti e viene descritto come un breve giro del Nintendo Museum che aprirà nell'autunno di quest'anno a Kyoto. Insomma, proprio come è accaduto per la presentazione del Super Nintendo World, si tratta di un evento che con il videogioco in sé non ha nulla a che fare. Ma, come ormai sta diventando una tradizione, Nintendo si è sentita in dovere di specificare che, cito testualmente, nel corso di tale presentazione non verrà annunciato alcun gioco e non saranno fornite informazioni in merito al successore di Nintendo Switch. Ormai l'attesa è diventata straziante e la pressione è abbastanza ingestibile, tanto che in queste settimane ne sono uscite di tutti i colori su Switch 2. Rumor sulla data di uscita, sul prezzo, sulle sue funzioni e via dicendo. Magari in settimana faremo un video riassunto su tutto quello che è stato detto, anche se si tratta poi o di rumor abbastanza campatinaria o di speculazioni trite e ritrite. La cosa più interessante, secondo me, arriva da GameIndustry.biz e riguarda la possibile finestra di lancio della console. Chris Dring, il fondatore della testata online, ha dichiarato che di tutti gli sviluppatori con cui ha parlato, nessuno si aspetta un lancio di Switch 2 prima della fine dell'anno fiscale in corso. Questo significa che fino a marzo 2025 Nintendo tirerà dritto solo ed esclusivamente con Switch. C'è chi spera in una rilisa ad aprile o maggio per evitare che la console venga pubblicata nella seconda metà del 2025, un periodo a dir poco affollato, visto che molto probabilmente l'attenzione dei media e di gran parte del pubblico, sarà tutta rivolta verso l'uscita di GTA 6. A questo punto è giusto ricordare però due fattori. Abbiamo comunque la certezza che la console verrà svelata entro la fine dell'anno fiscale. Una volta che Nintendo alzerà il separio sul nuovo hardware, a quel punto avremo una roadmap precisa non solo sulle sue caratteristiche, ma anche sulla sua campagna marketing e sulla sua pubblicazione. E poi non dimentichiamoci la strategia seguita per Switch 1. Dopo mesi di speculazioni, la console fu svelata con un trailer di presentazione ad ottobre 2016, per poi essere commercializzata il seguente marzo 2017. Possiamo ancora aspettarci delle tempistiche simili? Magari un reveal trailer ad ottobre o novembre e una data di uscita prevista per aprile e maggio 2025? Se la retrocompatibilità venisse confermata, in fondo un reveal del genere non intaccherebbe le vendite software, al massimo potrebbe accelerare il declino di quelle hardware, perché però, come abbiamo già visto, sono in netto calo già da qualche tempo. Voi che cosa ne pensate? E chiudiamo parlando della opening night live della Gamescom 2024. L'evento serale presentato da Jeff Keighley inizierà alle 20 e durerà circa due ore. Noi lo seguiremo in live qua su YouTube, come al solito si tratterà di un evento dove sarà dato spazio a un'enorme quantità di titoli. Vi dico quali sono le cose che secondo me sono potenzialmente le più interessanti, tra rumor e presenze già confermate. Partiamo però da quello che di sicuro non ci sarà. È stato lo stesso Keighley a confermare che Silksong non sarà presente all'evento. Ormai il seguito di Hollow Knight non è un gioco, è un miraggio, anzi, un meme. A questo punto sono convinto che sarà associato al lancio di Switch 2. Xbox ha confermato una presenza massiccia durante tutta la Gamescom, ci sarà spazio quindi per scoprire di più sull'espansione di Diablo 4 e Shattered Space, il DLC di Starfield, e dovremo finalmente avere una data di uscita per l'FPS di Indiana Jones, che è ancora previsto entro la fine del 2024. Si vocifera poi del possibile annuncio dell'arrivo su PlayStation di un'esclusiva Xbox. I rumor in questo frangente si sprecano, ma la maggior parte dei leakers si divide tra il possibile approdo di Forza Horizon o quello di Flight Simulator. Abbiamo poi la presenza già confermata di pezzi da 90 come Civilization 7, il nuovo fighting game di Dragon Ball, Black Ops 6 e Monster Hunter Wilds, ma fossi in voi terrei gli occhi aperti anche per dei titoli tra virgolette minori, ovvero non solo il nuovo Little Nightmares, ma anche per il nuovo titolo ad opera di Tarsier Studios, gli autori dei primi due capitoli della saga. Nel mentre il kojimone nazionale ha ricominciato a postare sui social senza tregua dei teaser per Death Stranding 2 e, considerata l'amicizia con Jeff Keighley, direi che scopriremo di sicuro qualcosa in più sul nuovo titolo del leggendario game designer. Tra i ritorni inaspettati, invece, potrebbero esserci le remaster dei primi Soul Reaver, rumoreggiati da un po' e appena annunciati per Evercade, e anche per una remastered di Bulli, visto che il titolo è apparso su diversi siti degli enti internazionali di rating. Infine anche Sega sarà presente con un misterioso titolo non ancora annunciato. Insomma, potenzialmente, di carne al fuoco ce n'è tanta, ma sappiamo tutti che con gli eventi di Keighley è sempre meglio andarci con i piedi di piombo. Vi aspetto comunque domani alle 19.30, mi raccomando, non mancate. In questo però c'è tutto per oggi, vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con una nuova live. Ma nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Games, Micheli Com, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Damio, 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 Damio.